Nel corso 2018 abbiamo acquisito 6 fiere, come tu sai noi abbiamo una fortissima specializzazione nel settore agroalimentare e nel settore turistico, specializzazioni che come sai abbiamo approfondito nel corso degli anni e che quindi ci ha consentito di aumentare esponenzialmente il numero di opportunità di incontro in questi due settori. Ad oggi gestiamo circa 5 saloni tra l'Italia e la Spagna nell'ambito dell'agroalimentare e collaboriamo con le principali iniziative di settore che ci sono anche tra i due paesi. Inoltre sempre nell'ambito fieristico rappresentiamo le principali fiere del settore artigianale che ci sono in Italia, laddove noi come sai creiamo sempre in tutte le occasioni fieristiche a cui partecipiamo, partecipiamo attivamente in due modalità o semplicemente attraverso la selezione di buyer che facciamo evidentemente rispettivamente o in Italia o in Spagna secondo la fiera che rappresentiamo, oppure partecipiamo anche fisicamente con espositori, creando nella stragrande maggioranza dei casi delle aree Italia, dei padiglioni Italia, delle aree Italia all'interno di queste manifestazioni fieristiche.